E' quasi tutto pronto a Paternò per dare il via ai lavori di recupero della chiesa del Panteon di Piazza Santa Barbara a finanziare l'intervento la regione siciliana. L'assessore Marco Falcone è stato in visita questa mattina nella chiesa del Panteon. Il finanziamento colma un'attesa lunga decenni. Sono pronti a partire a Paternò gli interventi di rifacimento della rete idrica finanziati durante la giunta Mangano questa mattina a presentazione dei lavori al Palazzo Comunale. In occasione del quindicesimo anniversario della strage di Nassiria, questa mattina al cimitero di Biancavilla, è stato commemorato Massimiliano Bruno, originario di Bologna. Bruno prestò servizio anche nella caserma dei carabinieri di Biancavilla. Lui si chiama Matteo, ha 12 anni ed è candidato alla carica di baby sindaco dell'Istituto Comprensivo Don Milani di Paternò. Matteo è un ragazzo diversamente abile, pronto ad abbattere pregiudizi e indifferenza. Teresa Castelli, 15 anni, e Nunzio Stancampiano, 16 anni, cugini e ballerini di Adrano, hanno conquistato il terzo posto a Parigi in un'importante competizione internazionale di danza sportiva. Buonasera e ben trovati per questa nuova edizione di Ciac News, che apriamo con una notizia che arriva da Palermo. Si è riempita piazza marina di manifestanti per il corteo organizzato da una ventina di sigle che sfilerà per le strade della città contestando il vertice internazionale sulla Libia. L'aria è presidiata dalle forze dell'ordine, un elicottero sorvola la zona. Ci sono militanti di Sinistra Comune, dei Cobas, dei proletari comunisti, ragazzi dei centri sociali, esponenti di potere al popolo e rifondazione comunista. In uno striscione si chiede la verità sulla morte di Giulio Regeni in Egitto. Interferenze è lo slogan scelto per il controvertice. Cambiamo completamente argomento, passiamo a Paternò. È quasi tutto pronto per dare il via ai lavori di recupero della chiesa, della Pantheon di Piazza Santa Barbara. Il sopravluogo questa mattina l'assessore regionale alle infrastrutture Marco Falcone è stato a Paternò per una verifica dei locali della chiesa del Pantheon di Piazza Santa Barbara in attesa di veder partire i lavori di recupero che proprio la regione siciliana ha finanziato per poco meno di 800 mila euro nelle scorse settimane. Un intervento importante, visto che permette il recupero di una struttura religiosa risalente alla metà della Seicento è destinata ad ospitare i militari caduti durante la Prima e la Seconda Guerra Mondiale. Non solo un luogo di culto, questo è uno scrigno prezioso per l'alto valore culturale, storico, artistico ed architettonico che rappresenta. Un luogo divenuto anche set cinematografico scelto dagli attori siciliani, Ficarre e Picone, per il loro film La Matassa. Le chiese infatti, insieme alla chiesa di Santa Barbara e alla chiesa La Madonna del Carmelo, costituiscono un attrettico religioso che si affaccia su un'unica piazza, uno dei pochi esempi in Sicilia. La mancanza di interventi negli anni e le copiose infiltrazioni di acqua ne hanno determinato un progressivo deterioramento. Da qui la richiesta di interventi avanzata già diversi anni fa con la sesura anche di un progetto da parte dell'ingegnere Salvatore Caruso. Oggi con la giunta a Musumeci arrivano le somme necessarie. L'assessore Falcone ha chiesto questa mattina al Comune di far presto, chiedendo l'avvio della gara d'appalto entro il mese. Se le somme infatti sono della regione siciliana, a seguire proceduralmente i lavori sarà il Comune. L'intervento però non sarà sufficiente per far tornare la chiesa al suo antico splendore. All'intervento di manutenzione si dovrebbe accompagnare un ulteriore intervento di restauro. Non escluso che su questo versante non si chiederà aiuto alla sovrintendenza ai beni culturali. E l'assessore Marco Falcone è stato questa mattina in visita nella chiesa del Pantheon. Il finanziamento colma un'attesa lunga decenni. Assessore, oggi qui a Paternò, questo sopralluogo nella chiesa del Pantheon, pronti finanziamenti? Sicuramente, veniamo oggi come governo regionale, il governo presunto dal presidente Musumeci, appunto per attestare e consegnare formalmente al sindaco della città di Paternò questa importante opera, un progetto di restauro della chiesa, ma anche di adeguamento dell'impiantistica e ai fini della sicurezza dello stesso immobile, servirà per renderla fruibile e per riconsegnarla nel migliore dei modi alla città di Paternò. Oggi lei dovrebbe fare un sopralluogo anche a Parcaglianarello? Assolutamente, sì, dobbiamo andare. Dopo questo incontro andremo su Dorna Lunga, andremo a vedere l'ASP 74 seconda che già è stata finanziata in parte con fondi del patto per il sud da parte della regione siciliana, ma va completata anche alla luce di queste nuove, di queste alluvioni che ci sono state e alla luce di questi danni che hanno messo in ginocchio veramente le infrastrutture viarie, anche quelle di penetrazione agricola. C'è anche tra l'altro un ponte che va rivisto e che va adeguato alle esigenze della viabilità. Queste e tante altre cose oggi faremo per vedere appunto lo stato dei luoghi ma soprattutto anche le condizioni delle nostre infrastrutture viarie. Assessore Falcone che ringrazio, ringrazio lui e ringrazio il Presidente Musumeci per questa attenzione che ha la regione nei confronti della nostra città. Sappiamo cosa rappresenta il pantheon per noi, pare che siamo in dirittura d'arrivo, quindi già l'Europa sta lavorando, speriamo che entro il mese di novembre riusciamo a pubblicare la gara e incominciare i lavori in questo monumento della città che possa essere di nuovo riaperto e fruito dai cittadini. L'assessore Falcone è rimasto estasiato andando all'interno di questa chiesa vedendo quanta arte, è una chiesa che risale al 1600, quindi sono quegli interventi importanti di cui ha bisogno la città di Paternò. Ci stiamo muovendo in sinergia con la regione, questa è la strada da percorrere, questo è un altro momento importante per Paternò ma anche per tutti i cittadini e per tutta la comunità. Questa è una grande risposta da parte dell'assessore che ci tiene sempre in forte considerazione, credo che questa sia una bellissima iniziativa, la chiesa è meritevole di questo finanziamento che arriva dopo un lavoro lungo e estenuante, credo che ci siano anche oltre questa ulteriore occasione di finanziamento, stiamo lavorando per questo, stiamo lavorando in sinergia con l'assessorato per vedere di poter ricreare quello che è un circuito storico e culturale per Paternò. Quindi penso che questa sia un'iniziativa lodevole da parte sia dell'amministrazione Mangono perché questa parte il finanziamento dall'amministrazione Mangono e si conclude con l'amministrazione Naso che è stata attenta a far sì che questo finanziamento potesse essere in atto. Adesso la pagina di politica dalle modalità con cui è avvenuto sembra propria un'epurazione. Peraltro ho appreso di essere stato sostituito da Facebook, a me non hanno detto nulla. Lo dice Ugo Forello, capogruppo del Movimento 5 Stelle al Comune di Palermo che ieri aveva criticato le esternazioni di Di Maio e di Battista sui giornalisti dopo aver appreso di essere stato sostituito con Antonino Randazzo. E torniamo a Paternò dove sono pronti a partire gli interventi di rifacimento della rete idrica finanziati durante la giunta Mangono. Questa mattina al Palazzo Comunale di zona Ardizione la presentazione degli interventi da parte del sindaco di Paternò Nino Naso e della Presidente dell'AMA Alessandro Andrea Lofaro. Sono pronti a partire a Paternò gli interventi per il rifacimento della rete idrica tra i quartieri Sardegna, San Biagio e Scala Vecchia. La consegna dei lavori questa mattina al Palazzo Comunale di zona Ardizione. Intervento per un finanziamento di un milione e mezzo di euro è il primo pronto a partire. Il secondo intervento verrà consegnato mercoledì prossimo per andare a completare dei lavori da effettuare per un importo complessivo di oltre 4 milioni di euro. Un sogno lungo circa 30 anni, con la rete idrica mai manutentata e diventata nel corso degli anni un vero colabrodo. Un intervento avviato con la giunta Mangono che ha presentato il progetto ed ottenuto il finanziamento poi portato avanti dalla giunta Naso che sta materialmente consegnando gli interventi. Finalmente si interviene nella nostra rete idrica, dopo 30 anni i primi interventi. Sono interventi importanti, giornalmente registro la sofferenza dei cittadini che mi parlano e hanno ragione di penuria d'acqua specialmente nel pomeriggio. Perché cosa succede nel pomeriggio? Vengono chiusi i pozzi per non disperdere l'acqua nel sottosuolo perché il 60% dell'acqua si perde nel sottosuolo proprio per questa carenza, per queste difficoltà che ci sono, per questo ormai è la rete idrica che è fatiscente. Quindi se stai intervenendo, interveremo nella zona alta, avete visto voi in zona via Fiume, in zona via Sardegna, Piazza Purgatoria e altro e poi completeremo tutta l'altra parte della città. Sono le risposte che aspettano i cittadini. Finalmente il servizio potrà non far più soffrire la città e non disperderemo questo prodotto che è il nostro prodotto principale. L'acqua è fondamentale per la vita umana, perciò non mi sembra giusto quello che è accaduto. e l'abbandono che c'è stato, ma sicuramente ora arrivano le risposte giuste. È un intervento importante, come evidenziava lei, si rifà la rete idrica, un'iniziativa ben eseguita con la vecchia giunta Mangano. Ha anche un altro obiettivo, quello di rifare le sedi stradali di questa parte dove si interviene? Addirittura ancora prima, dall'aggiunta Mangano, perché da dieci anni, quindi partiamo dall'aggiunta Failla, forse era ancora assessore, però questo qua ci permetterà, oltre di intervenire sulla rete idrica, ci permetterà di aggiustare anche le strade. Quindi i cittadini devono essere doppiamente contenti per questo doppio risultato che otterrà la città di Paternò. Io credo che oggi sia un giorno importante non solo per la mamma, ma per la città di Paternò. Dopo 29 anni rimettiamo le mani dove serve, importante finanziamento perché ci permette di migliorare un servizio idrico che in quella zona è inutile nasconderlo, è pessimo. Quindi ottimo risultato, la determinazione, la costanza, la voglia di portare a Paternò delle somme che ci servono per dare un servizio dignitoso alla città, oggi è un giorno importante per tutti, ripeto. Sono molto contento perché gli uffici comunali e l'amministrazione insieme a noi hanno lavorato dal primo giorno del nostro insediamento, quindi da novembre dell'anno scorso, per non perdere questo finanziamento e ce l'abbiamo fatta. Quindi un giorno importante per l'AMA, ma soprattutto per la città di Paternò. È un intervento importante perché, a parte ovviamente rifare la rete idrica, questo ci permetterà di risparmiare l'acqua che purtroppo andava persa. Assolutamente sì, in quella zona sperperiamo quasi il 60% di quello che immettiamo, quindi ci permetterà di migliorare il servizio, renderlo efficiente e ridurre naturalmente i costi. Quindi tanto di positivo in questo intervento, è un intervento importantissimo, saremo presenti e costanti nel controllo. Ripeto, arriveranno tempi migliori per questa città perché stiamo lavorando davvero duro e questo è un altro risultato ottenuto con il lavoro serio e determinante. E parliamo adesso della strage di Nassiria nel quindicesimo anniversario. Voglio rivolgere a nome della comunità siciliana un commosso pensiero alla memoria delle vittime di quel gravissimo attentato e di tutti coloro che hanno visto la vita sacrificata al servizio dell'Italia e della comunità internazionale. Sono queste le parole della Presidente della Regione Nello Musumeci, espresse questa mattina proprio per ricordare la strage di Nassiria. Le terribili immagini di quel giorno, dice ancora il Presidente Musumeci, che provocò la morte di 19 nostri connazionali, di cui 12 carabinieri, 5 militari e 2 civili che partecipavano alla missione antica Babilonia, sono ancora impresse, aggiunge, in maniera indelebile nella nostra mente. E in occasione del quindicesimo anniversario della strage di Nassiria, questa mattina al cimitero di Biancavilla è stato commemorato Massimiliano Bruno, originario di Bologna. Bruno prestò a servizio anche presso la caserma dei carabinieri di Biancavilla. A lui è stata intitolata la caserma dei carabinieri di Adrano. Vediamo. 15 anni fa la strage di Nassiria in Iraq. Alle 10.40 del 12 novembre 2003, un camion cisterna carico di esplosivo con a bordo due kamikaze esplode davanti la base militare maestrale. L'attentato provoca un massacro, 28 morti. Fra i 19 italiani c'è anche Massimiliano Bruno, un carabiniere originario di Bologna, che si sposò con una licodiese, la signora Giussi Longo, è prestò servizio anche a Biancavilla. A lui è stata intitolata l'Associazione dei carabinieri di Biancavilla e nel 2011 la caserma dei carabinieri di Adrano. Oggi nella cappella comunale del cimitero di Biancavilla, dove è tumulata la salma di Bruno, ha avuto luogo la cerimonia di commemorazione alla presenza della moglie e dei figli di Bruno, del vice comandante provinciale dei carabinieri, il tenente colonnello Mario Pantano, del sindaco di Biancavilla Antonio Bonanno, del comandante della compagnia dei carabinieri di Paternò, il capitano Angelo Accardo, del comandante della stazione dei carabinieri di Biancavilla Roberto Rapesarda, di rappresentanti dell'Associazione Nazionale Carabinieri di Biancavilla. Toccante è stato anche l'omaggio degli alunni della scuola Antonio Bruno, guidati da Giuseppina Barone, figlia del maresciallo Salvatore Barone, che fu comandante di Massimiliano Bruno nella stazione dei carabinieri di Biancavilla. È stata don Agrippino Salerno questa mattina di invitare i partecipanti a rivolgere una preghiera a Massimiliano e a ricordare tutti gli eroi di Nassiria. Il 12 novembre è una data che rimarrà sempre nei nostri cuori, nelle nostre menti, perché è stata scritta una pagina di grande dolore per l'arma dei carabinieri, è stato versato tanto sangue a Nassiria e quindi ogni anno noi ricordiamo i nostri caduti con grande trasporto e con grande segno di riconoscenza anche per quello che è stato fatto per l'adempimento del dovere e per mantenere la pace. Abbiamo reso omaggio alla memoria di Massimiliano Bruno, uno degli eroi caduti a Nassiria, un atto doveroso per la nostra amministrazione, un momento importante che ricorda le geste di quelle che si possono tranquillamente definire degli eroi della nostra nazione e della nostra patria, sperando che il loro esempio, il loro valore possa essere trasmesso alle nuove generazioni. Vediamo il figlio di Massimiliano Bruno, Simone, tu che ricordo hai di tuo papà? Cosa puoi dirci oggi? È un bellissimo ricordo di mio padre, ve ne potrei raccontare tante cose, stiamo qua fino a stasera, ci sono tanti ricordi di mio padre, anche se ero piccolo, perché mio padre se n'è andato quando io avevo 7 anni, ne dovevo fare 8 a breve. Papà mi ha insegnato tanto, mi ha insegnato tanti valori che tutt'oggi seguo, non finirò mai di ringraziarlo, ma penso che lo ringrazieranno in molti per quello che ha fatto lui e i suoi colleghi. C'è stato un omaggio, questa mattina anche da parte della scuola Antonio Bruno di Biancavilla, un momento speciale, lo ricorda una donna speciale, la figlia del maresciallo Barone, ricordiamo come è nato questo momento. Sì, io ho proposto alla nostra dirigente di portare una piccola rappresentanza della nostra scuola a conoscere questa storia e a presenziare qui questo ricordo, proprio perché è giusto far conoscere alla comunità e ai ragazzi questa storia e questa presenza così importante a Biancavilla di un caduto in Assiria e portare la testimonianza di un eroe che nella semplicità ha dato la vita e ha testimoniato la lealtà, il sacrificio per l'Italia. L'eroe che suo papà che è stato comandante della stazione di carabinare di Biancavilla ha conosciuto. Sì, mio padre l'ha conosciuto, era molto legato, quando si parlava di Bruno si commuoveva tanto e mi commuovo anch'io perché ero un ragazzo semplice, veramente molto umile e dal cuore d'oro. Parole semplici che avete scritto anche su un foglietto, vogliamo ricordare queste parole? Sì, abbiamo scritto un semplice pensiero in omaggio al maresciallo Massimiliano Bruno, un eroe semplice che ha dato la propria vita senza nulla in cambio, ma solo per l'Italia, per la patria. Ricordiamo che l'associazione carabinare di Biancavilla è intitolata Massimiliano Bruno, il Presidente poco fa illustrava la figura di Massimiliano Bruno agli alunni biancavelese ed è questo insomma il significato della giornata di oggi, fare capire alle nuove generazioni chi erano i caduti di Nasseria. Sì, prima di tutto abbiamo spiegato l'evento del 2003, che in quell'occasione i nostri cari concittadini militari e noi si trovavano sul posto per la difesa della libertà in un territorio straniero. È l'onore di Biancavilla di avere nel suo cimitero uno di quegli eroi. Massimiliano Bruno ha fatto servizio a Biancavilla dall'87 al 90, a comando della conestazione all'epoca c'era il maresciallo Barone. Quando si separa la notizia, si separa i nomi dei caduti, il maresciallo Barone e il rapporto di Nostrano mi chiesero di poter intitolare la sezione a lui. Abbiamo fatto le pratiche e fu intitolato a lui. E questa mattina a cerimonia anche a Paternò per ricordare le vittime dell'attentato di Nasseria dopo una santa messa presieduta da padre Alessandro Ronzi Svalle e celebrata presso la chiesa del Santissimo Salvatore, si è tenuto un breve corteo che ha attraversato via Tripoli, via Bellia ed è giunto fino a Piazza Nasseria. Qui è stata deposta una corona in memoria dei caduti. Alla cerimonia erano presenti tra gli altri le autorità civili e militari della città. E adesso ci fermiamo per la pubblicità. A dopo. Energreen Power è un'azienda specializzata in energie rinnovabili, grazie all'esperienza maturata nel corso del tempo. Energreen Power è in grado di offrire ai propri clienti soluzioni adatte a qualsiasi esigenza, realizzando impianti fotovoltaici, sia di grandi che di piccole dimensioni. Il nostro team di operatori specializzati garantisce un'assistenza completa e costante durante tutte le fasi di esecuzione dell'opera, dall'ideazione dell'impianto alla richiesta delle autorizzazioni necessarie, dall'installazione all'assistenza post vendita, fino alla manutenzione. Affidati a personale esperto. Scegli Energreen Power. In questo periodo da Energreen Power, grande offerta d'autunno. Impianto fotovoltaico 3 kW chiave in mano, 3450 euro più IVA 10%. Impianto 4,5 kW più batterie, accumulo, 4,8 kWh. Offerta chiave in mano, IVA inclusa, 9.900 euro. Impianto 6 kW più batterie, accumulo, 5,5 kW. Offerta chiave in mano, IVA inclusa, a 13.900 euro. Per info e sopralluoghi, chiamare allo 095 85 74 77 oppure al 340 3357 408. Energreen Power, contrada a Tre Fontane e Paternò. Visita il nostro sito internet www.energreenpower.it Rientriamo in studio con la cronaca atto vandalico all'istituto alberghiero di Paternò. I gnoti sono entrati in azione ieri sera intorno alle 22 a far scattare l'allarme gli uomini della vigilanza del contiguo istituto Marconi. I vandali entrati in azione hanno in un primo momento provato l'ingresso dalle porte antipanico del primo e del secondo piano, devastandole completamente, ma il tentativo è andato male perché le porte sono rimaste chiuse dall'interno con dei lucchetti. Da qui il tentativo di entrare da una finestra dopo averne rotto il vetro. L'intervento ha però fatto scattare l'allarme con i vandali che sono fuggiti. Restiamo a parlare di scuola, anche se questa è una bellissima pagina che abbiamo vissuto questa mattina. Lui si chiama Matteo, ha 12 anni, ed è candidato alla carica di baby sindaco dell'istituto comprensivo Don Milani di Paternò. Matteo è un ragazzo diversamente abile ed è pronto ad abbattere però così pregiudizi ed indifferenza. Vediamo. Lui è Matteo, ha 12 anni e frequenta la seconda media dell'istituto comprensivo Don Milani di Paternò. Matteo è uno dei candidati alla carica di baby sindaco che per quest'anno scolastico si conteneranno il posto di rappresentante della scuola alle imminenti elezioni promosse nell'ambito di un progetto di promozione civica lanciato anni fa dall'amministrazione comunale cittadina. Matteo ci aspetta ansiosamente, appena varchiamo l'ingresso della scuola ci corre incontro felice. A rendere speciale la candidatura di Matteo è la sua voglia di impegnarsi nonostante le difficoltà. Matteo è uno studente diversamente abile e non sa che con la sua forza, il suo coraggio, la voglia di scommettersi è il punto di riferimento per combattere contro i preconcetti, le diffidenze, per abbattere quei muri, quelle barriere che ancora oggi esistono. Per me fare il mini sindaco è bellissimo. Sei emozionato? Sì, tanto. Però per te è una bellissima esperienza perché ti metti in gioco, no? Sì. I tuoi compagni cosa pensano? Pensano quello che penso io. Cioè che è una bella cosa? Sì. E i tuoi genitori? Anche. Tu, per te è una scommessa importante perché lo diciamo, no? Sei un bambino speciale che insomma non è facile per te, però hai deciso di provarci la stessa cosa. E ti aiutare anche la carola. Ah, vuoi aiutare ovviamente la vicepreside perché insomma la scuola è tanto importante e mi dice proprio la vicepreside che tu sei anche un musicista. Sì, chi batte via. La batteria è quella che non so che ti piace di più. C'è anche cala stelle. Professore, lei segue Matteo da questo anno. Ecco, è per lui un'esperienza importante quella che sta per fare. Sì, è un'esperienza importante, è un'esperienza motivante. Matteo, al di là di qualunque problematica, si è messo alla testa, fra virgolette, di quelli che sono i suoi compagni, come propositore di attività che sono di controllo sulla scuola, di aiuto nei confronti delle istituzioni più elevate, il preside, la vicepreside. Quindi è diventato un elemento centrale della nostra scuola. Si prende cura dei compagni, se ci sono dei problemi interviene immediatamente. Quindi è un sistema, una metodologia di inclusione importante e oltretutto uno sviluppo di senso civico veramente non comune. Io ho girato un po' per varie scuole d'Italia, per vari motivi. Devo dire che qui in questa scuola l'inclusione a questi livelli non mi era mai capitato di poterla visionare. Con Matteo ci lasciamo con una promessa, una festa con dei palloncini che ci vuole far trovare al prossimo incontro. Noi ci auguriamo che possa essere la festa della sua elezione a Baby Sindaco. Noi la Don Milani ogni anno è protagonista nel progetto CCR e io voglio ringraziare per questo i professori e le professoresse che si spendono ogni anno per questo progetto. Per la Don Milani naturalmente è un'occasione importante anche perché quest'anno il nostro progetto inclusione di cui ogni anno noi ci rendiamo protagonisti naturalmente acquisisce una valenza diversa. Questo permette innanzitutto di abbattere le barriere? Senz'altro. Noi è da anni che lottiamo, a prescindere dal decreto legislativo 66 che è ormai attivo e ha regime in tutta la scuola, in tutte le scuole d'Italia. Noi ci battiamo già da anni per l'inclusività scolastica. Quindi possiamo dire che già siamo arrivati a buon punto. Per noi sicuramente è una grande conquista perché il progetto inclusione che fino adesso ha interessato le classi, le attività didattiche, le discipline, quest'anno prende un'altra veste. Si assume, si veste anche dei colori del nostro comune, il comune di Paternò che è l'ente promotore del progetto CCR. Siamo ben felici veramente che Matteo autonomamente senta questa esigenza di partecipare. Lui è un ragazzino veramente speciale. Ci ha permesso di rivedere tante cose nella nostra scuola. Tra l'altro la professoressa ha già accennato che lui fa parte integrante del corso di strumento musicale, della classe di strumento appunto di percussioni. Quindi siamo ben felici. Lo aiuteremo durante la campagna elettorale, anche se lui è già abbastanza autonomo, organizza e promotore di moltissime cose. Quindi siamo ben felici di accoglierlo nel gruppo del CCR. Teresa Castelli di 15 anni e Nunzio Stancampiano di 16, cugini e ballerini di Adrano hanno conquistato il terzo posto a Parigi in un'importante competizione internazionale di danza sportiva. Il terzo posto è quello di Parigi, ottenuto dalla coppia di cugini e ballerini di Adrano. Ballerini di Adrano che vale oro perché questa volta la gara ha messo a confronto talenti di tutto il mondo. Erano esattamente 16 le coppie di varie nazioni che hanno gareggiato nella categoria 16-18 anni a esse. Teresa e Nunzio che una volta hanno conquistato il titolo nazionale ai campionati italiani assoluti di danza sportiva, oltre che altri titoli nazionali e regionali adesso si stanno preparando per gli assoluti dirimeni, ma l'obiettivo rimane la partecipazione ai campionati mondiali, come spera anche il team di professionisti che allena i due ballerini di Adrano. Ma ecco Teresa e Nunzio nella loro esibizione a Parigi, la loro partenza a sprint e la conferma del loro talento. Mentre tutti aspettano, loro hanno già preso il tempo, quel passo in più che li porti in pista prima degli altri. E chiudiamo con un'ultima notizia, festa dell'accoglienza. Festa al Palazzetto dello Sport di Via Bologna per l'Associazione Città Viva, oltre 130 volontari hanno partecipato all'evento che coniuga l'attività fisica con la voglia di stare insieme. Una tradizione per l'Associazione festeggiata al Palazzetto dello Sport di Via Bologna con la presenza del sindaco Nino Naso e dell'assessore alla solidarietà sociale Nensi Leotta, come si vede in queste foto di Francesco Magri. All'appuntamento era presente anche Don Vito Mandarano, rettore del santuario della Madonna della Consolazione. Con questa notizia si chiude questo spazio con l'informazione e vi auguro una buona serata. Grazie. Grazie a tutti.